Sicuramente ho avuto una bella situazione di stabilità, di sicurezza, cosa che in altri pantaloncini non ho mai trovato. Un po' di vantaggio e di comfort su tutta la salita, soprattutto quelle lunghe. Adesso mi fai paura se mi interna uno scalatore, allora bravo! Quindi bisogna temerti, anche in salita. Cos'è che non eri da giovane e sei l'interno adesso da vecchio? Grazie per la visione!